Avvocato Laratta, la sua interpretazione nel raccontare il 27 gennaio a questi ragazzi, a raccontare l'Olocausto, la Shoah, raccontare Auschwitz, è stata sicuramente una interpretazione sentita e vera. I ragazzi erano attenti e hanno apprezzato quello che lei ha raccontato loro. Nel suo intervento all'ultimo ha detto leggete e guardate, non perché bisogna conoscere, ma soprattutto perché bisogna che fatti come questi, brutti, crudi, non accadano più. Beh, senza dubbio. Il 27 gennaio è diventato per me oramai un appuntamento fisso e tra l'altro, Donatella Cara, quest'anno sono stato ancora più contento perché ho potuto parlare della Shoah non a ragazzi già adulti, grandi, e quindi con un discorso tecnico più importante, più serio e tutto quanto, ma ragazzi delle scuole elementari e delle prime medie e quindi il ragionamento è stato chiaramente in maniera diversa. Ho voluto concludere parlando dei film e più in particolar modo di Schindler List perché in quel film è racchiuso tutto. E' racchiuso il comportamento iniziale del ghetto e il momento in cui arriva il treno ad Auschwitz-Birkenau e la scena della camera a gas, quindi praticamente quella doccia che si diceva fosse una doccia ma che doccia non era e quindi quello sguardo di terrore, solo un regista di quel livello poteva riuscire in bianco e nero tra l'altro a trasmettere. E allora io ho cercato di dire ai ragazzi prima di tutto non dimentichiamo, ma non dimentichiamo cosa dei ragazzi che sono nati dieci anni fa mentre la Shoah è finita nel 27 gennaio del 1945. E allora dobbiamo farlo in che maniera? Attraverso le letture o, ancora più importante, attraverso film che possono non essere simpatici da vedere all'inizio ma estremamente istruttivi. E' un film come Schindler List, è un film che va visto perché da lì si capiscono tante cose e soltanto quel tipo di immagine ti fa capire realmente che cosa è successo. Perché è un film estremamente reale che tratta poi, in quella occasione, di una persona che aveva fatto qualcosa di incredibilmente bello, tant'è vero che riposa tra i giusti in Israele.